Niente sorprese in promozione e pronostici rispettati con lo Sporting Accadia che passeggia sugli Irpini del San Martino Valle Caudina, la formazione di Mister Macera liquida con un secco 4-0, la compagine Irpina fresca di ripescaggio. Altra Irpina che alla vigilia partiva con i favori del pronostico era leclanese del tecnico Martino. I caloresi hanno rispettato appieno quanto sostenuto ed hanno battuto a domicilio la neonata FC Avellino con una rede di Claudio Tranfa che appena è entrato ha sbloccato il risultato con un gol che di fatto regala i primi tre punti della stagione. Parte bene anche il Paulisi, formazione che l'anno scorso sfiorò la promozione in eccellenza. I giallorossi hanno battuto con il punteggio di 3-2 il Siconolfi. Dopo un inizio di stagione poco felice il Baiano trova la prima vittoria stagionale di primi tre punti in campionato. I Granata di Sgambati hanno battuto grazie ai gol di Davanzo e Mingione il Grotta che in questo momento sta cercando di ricostruire dai coci della scorsa stagione. A completare il quadro di giornata ci sono il pareggio per 2-2 tra Montella e Serino, la vittoria del Comprensorio Miscano in trasferta contro la Polisportiva Bisaccese per 2-0 ed il pareggio tra Ariano e Artemisium con il match che finisce 1-1. La classifica dopo la prima giornata di campionato risulta quindi così delineata. A tre punti Sporting a Cadia, Comprensorio Miscano, Paolisi, Baiano e Declanese, ad un punto Montella, Serino, Artemisium e Dariano. A zero invece Siconolfi, Grotta, FC Avellino, Bisaccese e San Martino. A chiudere il quadro la Virtus Avellino ferma per il turno di riposo.